E' un uomo libero, Adamo. Non possiamo lasciarle mangiare le mele. Perché le mele sono di Adamo. Adamo vuole farci assaggiare il suo delizioso strudel. Come stai dicendo che Satana non vuole che io faccia lo strudel? E' cominciata la battaglia, Adamo. E se non fosse Satana che ti sta mettendo alla prova? Se non è Satana, allora chi è? Dio. Si è riuscito a strappargli di tosse la fede. Ma che mi stai rubando la roba, i mortacci tuoi? Si può usare pistola su terra di chiesa. Perché tu non l'hai detto prima. E' andato abbastanza bene, no? Poco divertente. Niente morti. Sapete cosa penso? Che oggi sarà una splendida giornata. Facец paine. Es roOH. Che oggi sarà una persona. E' ar pasta. App'